La ventiduesima edizione dei campionati di Fisarmonica Diatonica e di Organetto, che ha avuto come palcoscenico la bazia di Monte Scaglioso, ha registrato un nuovo successo per i colori meridionali, in particolare per la provincia di Salerno, che si è portata a casa complessivamente tre titoli mondiali e il premio speciale dell'Amisad. Ottimi piazzamenti per gli allievi della scuola fondata dal maestro Rocco Fortunato, amici dell'Organetto. Si è giudicato il titolo mondiale dell'Organetto nella Fisarmonica Diatonica Salvatore Pace di Picerno. Tra gli juniores ha trionfato anche Vincenzo Perillo di Serre, ex eque invece per Marcello Pietromica di Buon Vicino e di Angelo Spinelli di Montesano sulla Marcellana, entrambi facente parte della scuola di Alessandro Gaudio. Nel corso della manifestazione, ambito e meritato riconoscimento, è stato assegnato anche a Rocco Fortunato, che si è portato a casa il Seminatore d'Oro 2015, un premio internazionale assegnato dall'Amisad del presidente Giancarlo Ronconi. Il maestro cilentano, in circa tre decenni di attività, è stato tra gli artefici principali della riscoperta e la divulgazione del vecchio organetto che dalle feste tra amici ha conquistato un posto di primo piano nelle piazze più importanti delle regioni meridionali. Fondatore dell'associazione Amici dell'Organetto è l'ideatore e il patron del Festival Meridionale dell'Organetto a Policastro Bussentino, giunto alla quindicesima edizione. La scuola da lui fondata nel 2000, che porta avanti con il figlio Alessandro, annovera attualmente più di 150 allievi e nell'ultimo decennio ha conquistato complessivamente più di 15 titoli. Il Seminatore d'Oro ha un premio alla carriera per Rocco Fortunato. Che cosa ha significato per lei? È una sorpresa perché sono stato colto di sorpreso dall'AMESA, dall'Associazione Musicale Nazionale. L'ultimo giorno mi hanno chiamato durante la premiazione e mi hanno comunicato che avevano suggerito il mio nome per un premio alla carriera. Seminatore d'Oro, cosa devo dire? Come per gli allenatori di calcio. Cioè effettivamente io ho fatto qualcosa nel corso degli anni, da 30 anni a questa parte ho lavorato per questo strumento, soprattutto in Calabria, Basichelicata e Campania. Spero di averlo meritato. Per me è una grossa soddisfazione. Però per coloro i quali, diciamo, io lo considero come il culmine, l'epilogo, perché adesso mi ritiro. Già ho consegnato un po' tutto nelle mani dei figli, di coloro i quali saranno i miei successori in questo campo. Allora, magari a qualcuno dispiacerà che vado via, ad altri farà piacere. Comunque per me è una bella soddisfazione. Ringrazio effettivamente l'AMESA che ha fatto il mio nome. Spero, ripeto, di meritarlo. Se dovesse fare un bilancio di questi 30 anni che ha vissuto attorno all'organetto, la fisarmonica diatonica? Sono entrato per caso nel mondo, anche se ero nato in un mondo in cui l'organetto era di casa. Io ho avuto zii, mi è stato regalato il primo organetto quando ero piccolino, quindi sono nato come i miei figli in questo mondo. Non ho dovuto fare altro che poi coltivare questa passione. Mi sono trovato a casa un produttore di musicassette all'oro, che mi ha quasi obbligato a fare le prime musicassette. E poi sono andato avanti così, la passione, poi ho continuato. Ho cercato, mi hanno coinvolto anche ad insegnare l'organetto. E poi nel corso degli anni sono venuti i figli. Sono belle esperienze, però, ripeto, adesso esco fuori.